la gestione rilasciato il 30 gennaio 2024 il nuovo balance data slate quindi per quanto riguarda gennaio poi rilasciato anche il monitor non field se abbiamo 40.000 e l'update per quanto riguarda il commentario in questo caso per quanto riguarda il balance data slate per quanto riguarda il commentario lo troverete in un altro video vi voglio ricordare che metterà in descrizione anche il link in modo che potete andare a vedere l'articolo di volami community dove è spiegato il rilascio e quindi eventualmente se vi interessa potete andare a scaricare quello che mi interessa per quanto riguarda appunto i vari documenti che sono stati rilasciati qui ho deciso di fare una cosa che normalmente non faccio dato che sono state fatte molte piccole modifiche anche dove hanno state corrette ecco che mi conviene semplicemente dire dato che rimane poco di quello originale che proprio non è stato cambiato semplicemente a invece di devi andare a vedere quello vecchio farlo di nuovo quindi semplicemente riportare anche quello che è vecchio che è stato completamente riportato senza cambiamenti mi conviene semplicemente riportare di nuovo tutto perché ripeto ci sono state tante piccole cose cambiate quindi tanto vale fare questo passaggio cominciamo quindi con le devastating wounds che in realtà avevamo già visto cambiate non è cambiato molto più che altro rifasamento ma comunque andiamo a vederlo quindi gli armi con la keyword devastating wounds nel loro profilo sono conosciute come armi di devastating wounds ogni qualvolta un attacco effettuato da una di queste armi ecco che l'attacco effetto se effetto una critico per ferire non vedrà dei tiri salvezza di nessun tipo poter essere effettuati inclusi i tiri in vulnerabilità questi attacchi potranno essere allocati al modello solo dopo che tutti gli altri attacchi effettuati in unità sono stati allocati e risolti vi voglio ricordare che comunque rimangono diversi dalle ferite mortali perché non bypass il numero di ferite nel modello quindi tenete conto di questo perché l'importante distinzione poi per quanto riguarda il modificare il costo del statagemma per quanto riguarda i sui costi in cp che è qualcosa abbiamo già visto precedentemente quindi le regole che modificano un costo per quanto riguarda la strada gemma e vanno a bersagliare una particolarità possono essere fatte più volte su un'unità se ciascuna di queste appunto e se ciascuna di questa unità che va a bersagliare alla stessa abilità può modificare il come poi della strada gemma le regole che invece vanno a modificare il punto di costi comando per quanto riguarda uno strada gemma ma non specificano il nome dello strada gemma ecco che possono dare effettuare solo strada gemmi che siano battle tactics questo non si applica a quelli che sono air cast colossal striding colossus e towering grave constat come abilità allora qui conviene andare dall'esempio perché si capisce meglio effettivamente cosa vuol dire quindi un capitano con i diritti di battaglio come abilità permette al modello di andare a bersagliare uno strada gemma che con 0 command point in modo che costi 0 command point questa abilità non va a specificare il nome di uno strada gemma e quindi potrà essere usato soltanto per gli strada gemmi con definizione battle tattiche per essere usati con 0 command point mentre per quanto riguarda ad esempio azurman tattica come abilità ecco che comunque dato che permette al bersaglio di andare a modificare quello che è il come specifica lo strada gemma fire overwatch per 0 punti comando ecco che dato che specificato il nome dello strada gemma ecco che l'abilità quindi potrà essere usata anche se fire overwatch è un strategic play come strada gemma quindi va chiarito questo piccolo dettaglio altro esempio con la calisus con l'abilità rain of confusion quando utilizzato se aumenta il costo di uno degli strada gemmi dell'avversario di un command point questa abilità ecco che non può essere applicata a dato che non ha specificato uno strada gemma ad altro che non sia quello che è un battle tattiche perché non specificando alcuna strada gemma nello specifico si può usare solo per quei generali quindi per le battle tattiche altra cosa che è rimasto uguale da quello che era il precedente data solita è lo strada gemma che può essere usato più di una volta per fase o per turno quindi le regole che permettono di usare uno strada gemma anche se avete già usato per un'altra unità quello stesso strada gemma in quella fase o turno può essere fatto soltanto se viene specificato uno strada gemma altrimenti può essere utilizzato solo per strada gemma battle tattiche di nuovo soltanto per i battle tactics poi abbiamo dei cambiamenti per quanto riguarda gli strada gemmi generali quindi per quanto riguarda fare all robots quindi rimane che sempre viene applicato nella fase movimento di carica del nemico giusto dopo che l'unità nemica è stata schierata o quando l'unità nemica comincia proprio un modello proprio un movimento normale di avanzata di fallback di ritirata o di carica questa unità della matta nemica che è entro 24 pollici di questa età e che deve essere elegibile di sparare nella propria fase di tiro ed ecco che come effetto è un'unità invisibile alla propria unità ci stava insomma deve essere comunque visibile per poter essere elegibile come sezione va ricordato che non può bersagliare unità titaniche con questo strada gemma sono un troppo grosso quanto pare e fino alla fine di quella fase ogni qualvolta un modello la probabilità effettua un attacco da tiro un tiro modificato di 6 è richiesto per colpire a prescindere qualsiasi sia valore caratteristica di abilità balistica del appunto o di qualsiasi stato modificatore questo strada gemma è usato una sola volta per turno per quanto riguarda in sempre avere stati anche anche qui ho visto la modifica nei precedenti data slate poi rivediamolo ecco che quando viene effettuato il test di battle shock nella propria command phase ma prima di effettuare i test di battle shock ovviamente perché altrimenti sarebbe inutile ecco che l'unità da questo appunto della propria armata deve effettuare un test di battle shock e si previene o meglio si passa automaticamente il test di battle shock ricordate che non si può usare questo strada gemma più di una volta per battaglia quindi sarà importante capire quando effettivamente andare a utilizzare questo strada gemma perché una volta usato non si può più usare quindi sarà molto molto intrigante abbiamo per quanto riguarda la visibilità delle rovine che è stato cambiato appena appena però rimane quello ecco che i modelli non possono vedere attraverso o oltre questo elemento scenico esempio unità che sono fuori da questo terreno non possono tracciare linea di vista a un bersaglio che sia dall'altra parte di esso anche se normalmente sarebbe possibile tracciare appunto la linea di vista a bersagli attraverso finestra aperte porte o altro modelli come la keyboard icraft sono in sezione a questo dato che la visibilità da essi e verso di essi sarà determinata normalmente anche se l'elemento scenico normalmente sarebbe nel mezzo di questi tra loro e il modello che viene osservato i modelli possono vedere appunto tramite questo elemento scenico normalmente i modelli che sono totalmente entro questo modello possono vedere fuori di esso normalmente poi abbiamo che i modelli towering quello che guarda quindi sono entro questo elemento scenico possono dare fuori di esso normalmente ci sta perché sono giganteschi quindi ok poi andiamo a vedere per quanto riguarda le regole di frazione che vediamo molti piccoli cambiamenti quindi per quanto riguarda le adesso sorori sappiamo il triunfo di santa caterina le ricche della matte arca il simulacrum of ebon del calice ebone quindi abbiamo che si va a cambiare mentre un'unità amica di adatus rois è entro sepolice da questo modello un'unità può performare fino a due atti di fede per fase invece di solo uno quindi bene abbiamo per quanto riguarda le tetus custodes con l'egida del dell'imperatore per quanto riguarda l'abilità di staccamento che va cambiato con adatus custodes come modelli di drape armata con un filo pendi 4 più contro le ferite mortali e contro le ferite critiche causate da attacchi effettuati da abilità devastating wounds che abbiamo visto prima è stata cambiata quindi è un modo per avere un tiro un tiro per parlarsi il culo anche da quelle da ricordare e vi ricordo che le devastating wounds sono diverse dalle ferite mortali quindi questo è comunque molto importante perché effendo un effetto molto simile comunque è un modo per limitarle poi abbiamo per quanto riguarda la wave e senti nel stato che viene cambiato in essere un epic did come stato gemma abbiamo un cambio per quanto riguarda i custodian guard e i custodian warders che vedono il numero di modelli passare ad essere 4 a 5 e invece per quanto riguarda il vertus spectators che da due a tre modelli ok sinceramente questo mi pareva di averlo già visto nella precedente ma ci sta per abbiamo per quanto riguarda gli eldari che vedono per quanto riguarda lo street of faith army rule che la propria armata come fazione è eldari all'inizio della battaglia si determina il numero di stand of faith tirando 6 di 6 e qua è il cambio cioè il numero che si va a tirare che ora è 6 abbiamo per quanto riguarda il announcement fit messenger che si applica soltanto a modello eldari una volta per turno giusto dopo che si è effettuato un tiro per colpire un tiro per ferire o un tiro salvezza per il portatore ricordate che la modifica è importante solo per il portatore ecco che si tratta il risultato del tiro non modificato come essere 6 invece poi abbiamo il stratagemma fantasma che va a modificare in modo che sia solo unità eldari infantry quindi soltanto di fanteria della propria armata e l'effetto è l'unità può effettuare un movimento normale fino a fino di 6 pollici con questo non può imbarcarsi però su un trasporto alla fine di questo movimento quindi un po limitato però comunque movimento addizionale quindi non fa male abbiamo poi per quanto riguarda eldra ultran con l'abilità di winner of futures quindi quello che prevede il futuro o meglio i futuri e quindi abbiamo che all'inizio della battaglia quando si va a determinare quelli che sono il numero del strength of faith ecco si tira si tira un'addizionale 3 di 6 quindi vuol dire che si va e anche qui la modifica è dovuta a quello che abbiamo visto prima dato che è stato portato a 6 prima e qui si aggiungono va specificato che quindi ora sono 9 6 più 3 quindi semplicemente un aggiustamento corredato alla modifica precedente vediamo per quanto riguarda in espina con l'abilità del finalmente web quindi nella fase di tiro dopo che modello ha sparato se uno o più degli attacchi effettuati con appunto il doom weaver effettuano un colpito contro un'unità nemica ecco che l'unità nemica verrà pinnata e fino alla fine del prossimo turno dell'avversario si avrà che l'unità mentre è pinnata sotterrà due della propria caratteristica del movimento due dai tiri per l'avanzata e della carica che vanno a effettuare quindi un modo per fare in modo che si muovano di meno ci sta poi abbiamo per quanto riguarda dei kernen l'abilità in venipo ecco che una sola volta in ciascuno dei propri turni quindi ricordate che solo proprio turno e questa è la parte importante che è stata cambiata in vera ricordare se questo modello è sul campo di battaglia quando un'altra unità è distrutta ecco che si può rimuovere l'ultimo modello di comunità e rimuovere questo modello da campo di battaglia e schierarlo di nuovo più vicino possibile a dove quell'unità è stata distrutta ma non nel range di ingaggio di un qualsiasi modello nemico quindi ci sta è un modo per potersi teletrasportare praticamente abbiamo per quanto riguarda l'abilità world concept delle warry guard quindi una sola volta per turno di battaglia riguarda turno di battaglia quando un'unità nemica bersaglia questa unità dopo che un'unità ha finito di fare i propri attacchi ecco che questa unità può sparare come se fosse nella propria fase di tiro se lo fa deve scegliere il bersaglio dell'unità che ha sparato come bersaglia di unità nemica e ricordate che deve essere comunque è un bersaglio elegibile quindi che deve essere interrange visibile tutto quanto legato abbiamo poi per quanto riguarda l'ence of the imperium che vede l'ex action scuola che ha uno come protocore exaltant 9 come ex action vigilance e da 0 a 1 cybermastiff e la parte per quanto riguarda l'equipaggiamento che vede cambiare il primo punto in fino a 2 ex action vigilance possono ciascuno di essi avere l'habitat command combat shotguns rimpiazzato con una delle armi che appunto dovete dare per quanto riguarda l'agito per imperium a riguardo e per quanto riguarda l'astra militarium vede una piccola modifica per quanto riguarda l'abilità del comando per quanto riguarda la voce di comando della regola dell'armata quindi si cambia il primo paragrafo in se la propria armata è di astra militarium i modelli con la keyword officer con questa abilità possono lanciare ordini ciascun officer nella propria scelta specifica quanti ordini possa lanciare e quali unità sono elegibili di ricevere quegli ordini ogni qual volta un officer come modello lancia un ordine seleziona uno degli ordini dovete andare a vedere quali nell'astra militarium e selezionare unità elegibile amica intros e pollici da quel officer come modello che appunto possa beneficiarne i modelli officer possono lanciare ordini nella propria fase comando e alla fine della fase in cui questi sono sbarcati da un trasporto o in quando sono stati scherati sul campo in battaglia quindi questo è importante per definire quando effettuarli quindi questo piccolo cambiamento è essenziale per chi gioca l'astra militarium abbiamo per quanto riguarda i blood dangers che vende cambiare quella che è la regola per quanto riguarda la sete rossa come regola di staccamento viene cambiato in modo che ogni qualvolta un'unità di adesso stars per la propria armata è selezionata per combattere se qualità ha effettuato una carica di movimento in questo turno ecco che fino alla fine di quella fase aggiungerà due a valore di caratteristiche di forza e uno a caratteristica di attacchi per aiutare il combattimento dei modelli di qualità quindi sinceramente dato che io personalmente gioco con blood dangers va benissimo perché è molto intrigante è molto interessante anche come regola quindi ci sta almeno io sono contento ecco che abbiamo i chaos demons che vede un piccolo cambio per quanto riguarda la demonic path il patto demoniaco che vede aggiungere un paragrafo addizionale quindi in aggiunta per ciascuna delle seguenti keywords il numero di modelli di non battle line units con appunto la keyword che vanno a essere incluse in questo modo non possono essere più grandi del numero di unità battle line con la keyword che si va a includere in quel modo quindi semplicemente sono che non si può avere più unità non marchiate di quelle marchiate alla fine di battle line ovviamente ovviamente queste non essere quelle di corn, cinch, nargol e slanesh poi abbiamo i chaos space marines quindi anche qui va a modificare un attimo per quanto riguarda la regola di destaccamento max o chaos quindi si aggiunge un punto addizionale unità può solo imbarcarsi o cominciare la partita imbarcata su quelli che sono trasporti se entrambi l'unità appunto hanno almeno una delle seguenti keyword che sono le stesse seguenti praticamente devono essere della stessa divinità tutto lì semplicemente non si può imbarcare su un veicolo la metà di un'altra marchia poi abbiamo per quanto riguarda il a parte per quello che è dark exploration stratagem che cambia semplicemente il range comunque abbiamo che fino alla fine di quella fase unità che abbia appunto l'abilità stealth ecco che in aggiunta se la propria unità è un'unità di nargol sia che fino alla fine della fase può essere selezionato come bersaglio di un attacco da tiro solo se il modello attaccante è entro 18 pocci quindi limita quello che ha range per poterci tirare contro non è affatto male abbiamo poi lo stratagem profin zeal che va a bersagliare un quella che è un'unità di eretica status ma del caos indiviso quindi caos and divided ricordatevi questo perché è importante la propria armata in modo che appunto non possa essere selezionato che non sia stato ancora selezionato per tirare o combattere fino alla fine della fase ciascuna unità ciascuna volta che un modello di unità effettua un attacco può ritirare il tiro per ferire assolutamente niente male poi abbiamo per quanto riguarda la curse cutis che va a cambiare quello che è il valore del l'obiettivo di controllo che per i mondelli di mutanti e torments e lo porta a 1 quindi ok comunque lo hanno abbiamo poi per quanto riguarda la curse or ability che va cambiato in modo che sia che all'inizio della propria command finish quindi non quella deve essere solo la propria si può far tornare o un modello distrutto di torment o fino a tre modelli distrutti in mutante alla propria unità quindi anche qui non ha fatto male poi ancora abbiamo per quanto riguarda la death card che alla fine rimane la stessa che avevamo visto nel precedente data slate però comunque andiamo a darla ecco che abbiamo quindi che si va ad aggiungere questa che è la spread the sickness come regola di trastecamento all'inizio delle regole quindi durante la dichiarazione della formazione delle formazioni ecco seleziona una delle seguenti malattie sotto e fino alla fine della battaglia tutta unità della propria armata con il dono di nargole guadagnano quella che è appunto quello che si è sezionata abbiamo tre che sono tutte ad ora quindi a range abbiamo la light mentre un nemico come un'unità nemica entro la range di contagio di questa unità si peggiore l'abilità balistica e l'abilità di combattimento delle armi equipaggiate ai modelli di quell'unità di uno non è affatto male abbiamo rat joint che mentre l'unità nemica è entro la range di contagio si peggiore il tiro salvezza delle unità nemiche di uno e quello che è la scab su route quindi mentre è entro il range di contagio si peggiora la caratteristica di leadership e di controllo degli obiettivi dei modelli nemici delle unità nemiche fino a di uno fino a un minimo di uno anche qui basta solo scegliere quale si vuole perché sono tutte molto belle e poi abbiamo che si cambia la parentesi alla fine della corrente regola in modo che le unità entro la zona di contagio vedono quello che è la loro caratteristica modificata questo è quello che è stato veramente cambiato è molto interessante in ogni caso abbiamo poi il biologus che ha un cambio per quanto riguarda l'abilità explosive maladies quindi nella propria fase di tiro si può sezionare un modello della propria amata con questa abilità e che sia bersaglio quindi della stratagemma granata per 0 command point quindi per un numero di combat point nullo e può fare questo anche se si è già utilizzato questo stratagemma su una differente unità in questa fase e questo modello può quindi essere sezionato per questa unità però per questo stratagemma solo una volta per battaglia però non è male perché comunque mi permette di usare più volte lo stratagemma quindi è intrigante vediamo per quanto riguarda la default che in realtà l'abbiamo già visto prima semplicemente è stato messo la specifica per quanto riguarda per lui sia per le dragonfire rounds per le fire rounds e per le crack on rounds qui abbiamo le dragonfire rounds che funzionano alla fine della fase le armi bolt weapons equipaggiate dai modelli in questa età hanno la regola assault e ignore cover che non ha fatto male hellfire rounds fino alla fine della fase le armi bolt weapons escludendo quelle che sono le armi con le devastate quindi ricordate che c'è una attenzione in questo caso tipo già tra modelli nella propria unità quali hanno quella che è anti infantry a 2 più e anti monster al 5 più come abilità e poi abbiamo la crack around stratagemma fino alla fine della fase si aumenta quella che è la caratteristica e penetrazione caratteristica delle armi bolt weapons equipaggiate modelli di 1 e si aumenta il range di caratteristica di queste stesse armi di 6 quindi diventa devastante come azioni poi abbiamo quello che abbiamo visto la volta scorsa per quanto riguarda l'elenco delle varie armi bolt weapons che sono praticamente quasi tutte le armi marines poi abbiamo per quanto riguarda i durkari che vedono un cambio per quanto riguarda quella che è la regola dell'armata power from pain in power from the pain quindi va cambiato quello la parte per quanto riguarda empowered in the shooting o in fight phase ed ecco che quindi ogni quale volta un modello in questa unità effettua un attacco si può ritirare il tiro per colpire e se questo è un attacco da combattimento si aumenta la caratteristica di penetrazione di quell'attacco di uno normale per quanto riguarda l'arcon come leader section sono le capacità di essere aggregato in modo che questo modello può essere aggregato unità di corto far con incubi e cabalette curios quindi semplicemente siano delle opzioni in più poi per quanto riguarda la gestire il curso anche qui vediamo un piccolo aggiustamento di quello che abbiamo visto precedentemente nel precedente data slate quindi abbiamo la cult ambush army rule che va ad essere che si cambia il primo paragrafo con se la propria armata è di gestire il curso ciascuna volta che un'unità conquistabilità è distrutta si tirano di 6 aggiunge 1 se il risultato se appunto il risultato di questa unità è una battle line e se aggiunge 1 anche se il risultato è nel primo o secondo turno di battaglia al 5 più si aggiunge una nuova unità alla propria armata identica all'unità distrutta nel cult ambush come start strength avrà quello che sono le ferite come numero di ferite rimanenti quello che è praticamente il numero di ferite che era dell'unità e si avrà che si piazza poi un marker per quanto riguarda il cult bash ovunque sul campo di battaglia a patto che sia più di nove pollici orizzontalmente da qualsiasi unità nemica e se non è possibile non può essere pezzato il segnellino e per quanto riguarda l'atan jacks per quanto riguarda l'abilità delle outriders gangs qui va cambiato e cambia semplicemente la gittata in cui funziona quindi ogni qualvolta si può utilizzare la cult ambush ambiente per mettere questa unità dietro a di nuovo sul campo di battaglia si aggiunge in aggiunta alle altre regole che tutti i modelli devono essere schierati totalmente entrano ai pollici dal bordo del campo di battaglia e almeno uno deve essere di questi modelli a toccare quello che è il marker per quanto riguarda il cult ambush ricordate che il marker va rimosso quindi dal campo di battaglia se non può essere fatto l'unità non può essere schierata quindi questo si va semplicemente a combinare perfettamente con quello che abbiamo visto prima semplicemente sono regole oggettive per una specifica abbiamo per quanto riguarda i pieni che vedono dei cambi molto leggeri quindi abbiamo per quanto riguarda l'altro file in sfide stratagem che vede essere un ora uno stratagem poi come è stata gemma e una modifica per quanto riguarda gli armi del nemesis strike knight e del grand master in nemesis strike knight quindi abbiamo che l'ivips e canon ora anche la keyword ignore cover quindi per quanto riguarda il nemesis demon critamer avrà ora che avrà un'abilità combattimento di tre o più mentre per la nemesis gets war sia per quanto riguarda lo strike plus whip avrà un'abilità di combattimento di due più per ciascuno quindi poche ma interessanti come opzioni poi come effetto sono tante più quelle cose sono state cambiate per ricorda l'imperio annate abbiamo per quanto riguarda il codice cavalli tedesco come riguarda l'armata le lotte tyrant abbiamo quindi che si va a cambiare le abilità di off e quindi abbiamo che ogni quel voto questo modello è selezionato per sparare o combattere si va a ritirare un tiro per colpire e un tiro per la ferire quindi gigante anche per quanto riguarda il bossman abilità è stato cambiato appena appena quindi rimane uguale vediamo che alcuni questories come modelli hanno l'abilità bossman che appunto è taggata con la parola bossman nella propria fase comando uno più modelli della propria armata con questa abilità ecco che possono utilizzarla per ciascun modello che lo fa si seleziona un modello armiger amico e introdurre cipollici da quel modello non si può selezionare un armiger che sia già affetto da un'abilità bossman quindi solo uno per parte ma non si può avere che uno sia per più di si è collegato a più modelli diversi ecco che fino alla fine della successiva propria command phase il modello armiger poi si è selezionato per essere effetto dall'abilità bossman abbiamo per quanto riguarda lo stato già matando sto perché diventa un epic di da mentre va cambiato il numero di come un po it che sono per i trofi claim e per i valiant la stand che diventano ora due come un po mente abbiamo per quanto riguarda l'elix vuota anche questo l'abbiamo visto e cambiate precedentemente modificate qua vengono risultate ancora ulteriormente un altro po quindi abbiamo che per quanto riguarda le regole di struttamento della roofless e finisci che si vanno a cambiare i primi due grafosi in modo che sia all'inizio della battaglia selezionano numero dignità della propria armata dipende a seconda della dimensione della battaglia stessa quindi per l'incursione saranno due unità per la strike force 4 e per lo slot 6 ciascuna di queste unità comincerà con due segnalini giacemente si va a vedere per quanto riguarda la regola occhio degli antenati e se all'inizio di una qualsiasi delle fasi comando una di queste unità è stata distrutta si guarda il numero di common point che dipende da quanto presto nella battaglia questa sia stata distrutta e questo si va dalla tabella relativa punto si potranno guadagnare i common point in questo modo solo una volta per battaglia e come un po e due guadagnati in questo modo sono un'eccezione alla chorus che permette di guadagnare un massimo di un solo come un po di battaglia quindi questo diventa molto importante prima per quanto riguarda il space marine che avete quella composizione spiegata per quanto riguarda le sessions code che con i strati un sergente e quattro desolation marines sinceramente ok non è che mi piaccia molto questa unità in ogni caso però ok abbiamo per quanto riguarda gli space wars che vedono un cambio per quanto riguarda quello che è la regola di estaccamento the days of warfare saga quindi all'inizio del turno in ciascun giocatore e questo è il cambio c'è di ciascun giocatore quindi conta sia proprio che l'avversario si può selezionare una delle saghe che andremo a vedere ora se quella saga viene completata della premata durante quel turno tutte le unità di adesso standard della premata guadagnano i benefici associati fino alla fine della battaglia si può selezionare ciascuna saga solo una volta per battaglia quindi dovete fare attenzione a questo dettaglio la saga del guerriero nato o the war in born quindi se questa saga è completata se uno o più modelli a starter charters della propria armata distruggono stati distrutti da uno o più modelli nemici durante questo turno quindi semplicemente se riesci a distruggere i modelli charters nemici guadagni questa ecco che come beneficio una volta completata gli armi da combattimento equipaggiate da modelli a starter adeptus a starter della propria armata guadagnano l'abilità sustained hit 1 che non è male troviamo saga of majesty questa saga è completata se si contano uno o più obiettivi nella zona di scheramento dell'avversario alla fine del turno di quel turno e uno o più adeptus a starter charters come modelli della propria armata sono entro il range di quelli semplici obiettivi quindi ricordate che contano soltanto i personaggi come beneficio abbiamo una volta completato se aumenta la caratteristica il controllo degli obiettivi per i modelli adesso stati stata permata di uno non è male comunque proviamo al saga of the beer quindi questa saga è completata se uno o più adeptus a starter charters come modelli la propria armata vengono ridotti sotto metà della propria valore di ferite durante quel turno ma non sono stati distrutti alla fine di quel turno quindi qua dovete fare un po di attenzione poi abbiamo che i benefici in questo caso abbiamo di tutti i modelli adesso stati sapevo armata guadagnano fino pendi sa più e non appare poi abbiamo saga of the beast slayers questa saga è completata se uno o più personaggi adeptus a starter della propria armata hanno distrutto uno o più mostri o veicoli nemici in questo turno come l'edificio una volta completata è che le armi a combattimento solo da combattimento progetti ai modelli adeptus 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 a premare guadagnano l'onorabilità e tali quindi non male questi eventualmente spesso si riesce a ottenere abbiamo per quanto riguarda i gold hitters che vendono un cambio per quanto riguarda le armi a combattimento inculpaggiate al portatore per quanto riguarda favore of corn come potenziamento quindi solo per quanto riguarda modelli word hitters una sola volta per battaglia ricordate una sola volta per battaglia quando si va a fare un blessing of corn quindi una benedizione di con come tiro prima di fare ciò di fare qualsiasi altra cosa e potatore posare questo potenziamento se lo fa si scartano tutti i dati di quel tiro e si fa un nuovo tiro per quanto riguarda questa benedizione se nuovo tiro notare che questo nuovo tiro non conto come essere un ritiro di per sé quindi qualunque regola che vi permetta di ritirare o manipolare questo di questo dado come per esempio l'icona di corn può ancora essere utilizzata quindi niente male per nulla poi abbiamo per quanto riguarda la milità inferna forti tu del word hitters demon prince che va cambiato in mentre una unità amica infantry condita e inter sei pollici da questo modello i modelli comunità dicevano un tiro una vita di 5 più a meno che abbiano già un tiro una vita in quel caso vanno ad avere un tiro una vita di 4 più quindi anche questo non è male come detto maggior parte di questi sono piccoli aggiustamenti non sono veramente nuove regole portate ok quelle dello state in wunz volendo ma anche lì comunque è qualcosa che sarà già visto è semplicemente stata aggiustata un pochino quindi ok se ne prende atto sinceramente non lo trovo così eccezionale però quello che è importante che ci sono alcune cose vengono modificate ad esempio per me è importante la parte per quanto riguarda i bloodhangers perché è essenziale adresì va ricordato che questa è solo una parte regole perché dovete andare a vedere anche per quanto riguarda il commentario perché quello diventa essenziale da combinare con le due cose quindi comunque ci sono parecchie cose da andare a vedere e vi consiglio di guardare queste cose perché cambiano moltissimo in alcuni piccoli dettagli magari non possono influire come andrete effettivamente a poter portare le armate sul campo di battaglia ad ogni modo da denamod è tutto invito a iscrivervi al canale a suonare la campanella per ricevere notifiche per quanto riguarda nuovi video a commentare qui sotto per quanto riguarda questo video o se volete suggerirmi per quanto riguarda nuovi video a cui potreste essere interessati spero di rivedervi presto alla prossima